Siamo Taranto in una giornata di luglio, per fortuna ventilata. Siamo Taranto ora sta realizzando queste azioni di bonifica, di pulizia del territorio, ora è a Tramontone, in una funzione, in un ruolo di supporto rispetto all'attività istituzionale di Amio, perché loro raccolgono, accatastano i rifiuti e poi ovviamente sarà l'azienda a smaltire. Abbiamo una volontaria, signora non si vergogni, si devono vergognare quelli che buttano i rifiuti, quali sono le ragioni che l'hanno spinta? Lei poteva starse tranquillamente a casa, riposarsi e invece no. A dire il vero sono saltuaria e sono la mamma di Francesca Boccardi e mi coinvolge, io con piacere. Mamma d'arte. Mamma d'arte e siccome mia figlia è una patita, io penso anche molto esagerata, perché là dove vede carte, bottiglie, anche in giornate non come queste, raccoglie sempre. Una grande passione. Sì, ma da piccola, perché noi abitiamo non molto distante da qui, a Torre Blandamura, già da piccola veniva con i sacchi salendo, perché all'epoca era una zona aperta e quindi buttavano di tutto veramente. E ha continuato. E lei, signora, ovviamente è stata contagiata positivamente. Ma siamo anche di famiglia. Parliamo di contagi positivi, se no. Io dico che, insomma, comunque questa è almeno la decima volta che veniamo in questa zona. La prima volta sono stati raccolti degli inerti con cassoni che il signor Campo gratuitamente veniva e ci dava una mano. Poi naturalmente venivano smaltiti dall'AMIU. 20-25 cassoni di inerti, assurdo, di tutto di più. Ora invece ancora c'è da togliere, perché di là vengono a scaricare, nonostante barriere che si mettono. Comunque speriamo bene, che dobbiamo dire? Passeranno i decenni. Siamo Taranto. Siamo Taranto. Arrivederci.